Musica Un saluto videogiocatori, bentornati, bentornati qui su Far Cry 5 Benvenuti più che altro perché è il primo video che porto su Far Cry 5 Cosa succede? Perché faccio questo video? Ho finito Far Cry 5 in 3 minuti, 4 minuti? Esatto, perché? Perché non so se vi ricordate, ma io portai già un video su Far Cry 4 finito circa in 15 minuti Quindi di cosa stiamo parlando? E premetto, ve lo dico subito, non ci sono spoiler Stiamo parlando di un Easter Egg Esatto, anche in Far Cry 5 c'è l'Easter Egg per finirlo in pochi minuti Ebbene sì, perché? Perché c'è un momento in cui vi si chiederà di arrestare quello che è l'antagonista Il nemico della storia, eccolo qua Joseph Seed, il padrone L'eletto, il padre fondatore di questa setta Quindi è proprio all'inizio del gioco, nei primi minuti di gioco Vi verrà fatta questa domanda di arrestarlo Mediante la pressione del tasto X in caso di console Sony Cosa succede? Succede che come in Far Cry 4 Se voi desisterete, se voi sarete lì ad aspettare Memore di quello che accade, accadeva in Far Cry 4 Ovvero che all'inizio quando vi presenta un nemico Se state fermi lì sul tavolo, nel Kirat In Far Cry 4, dopo che va via Pagamin E gli ho fatto un libro, ho fatto un video in merito Se state lì, praticamente torna Pagamin e finisce il gioco E bene sì, l'Easter Egg c'è anche su Far Cry 5 Voi, non arrestate Joseph Seed Restate là imbambolati come dei cazzoni Ci sarà lo sceriffo che vi dice qualcosa Ci sarà Joseph che vi dice qualche altra frase d'effetto E alla fine, se voi non premerete il tasto d'arresto Ragazzi, ve lo faccio vedere Che cazzo ve lo dico a fare? Ve lo faccio vedere A volte è meglio non svegliare di can che dorme Andiamocene Che cazzo stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa cazzo stai facendo? Scenifo, torna indietro Ascolta Se tu gli metti le manette Nessuno di noi rimarrà vivo Vi arresterò tutti E sia Ragazzi, ecco, fine, basta Titoli di coda E via, musichetta Tac Va bene, io vado matto per queste cose A me gli easter egg mi buttano via Poi su sta cosa qua Ho detto, voglio proprio provare a farla Vi giuro, è stata una sorpresa Non so se già qualcuno Sicuramente qualcuno se ne sarà già accorto Per carità Però, insomma, spero di avervi strappato un sorriso Più che altro E basta Ho detto questo Io vi saluto Se volete provarlo Provate a farlo anche voi Io, come sempre, vi ringrazio Ricordo Like Iscrizione Commentate Scrivetemi cosa ne pensate Come sempre Ci vediamo al prossimo video Ciao Scusate per l'audio Si sente una merda Ma avevo solo sto microfono qua disponibile Ciao ragazzi Ciao